Amici, noi non demordiamo e vogliamo iscrivere il nostro numero di cellulare a quel cazzo di registro delle posizioni nuova versione, siccome col sito web abbiamo visto che c'è quel problema che mi dice che il mio numero di cellulare non è presente nei registri pubblici, ma è ovvio perché è un numero di cellulare, quindi non può essere negli elenchi, a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi anni, ma allora ditemelo voi nei commenti, a me non risulta che i numeri di cellulare siano in alcun tipo di registro pubblico, allora possiamo però tentare di fare la stessa cosa chiamando il numero 800 265 265, puntiamo una birra da mezzo che non funzionerà, proviamo a chiamare 800 265 265, eccolo qua, attiva voce, pac, la chiamata va subito giù e nessuno ha risposto a niente, quindi proverò nei prossimi giorni uno all'altra strada, casomai se volete restare aggiornati iscrivetevi al canale e campanella per i prossimi video, vinceremo questa battaglia contro gli spammer maledetti? Secondo me no, però ci proviamo, a presto!